Il sabato santo assomiglia a ciò che rimane di un paesaggio il giorno dopo la tempesta. Tutto è silenzioso, ma sono solo rovine. Eppure, in quell'apparente fine, è nascosta la chiave di volta di tutto. Che avrà il coraggio di stare in un luogo simile? Il Vangelo ci dice che solo le donne rimangono accanto a Gesù, anche quando tutto sembra finito. I discepoli uomini sono fuggiti tutti, loro invece, le donne, hanno accompagnato Gesù passo passo fin dentro il sepolcro. Forse è proprio per questo che Gesù concede loro il privilegio di assistere per prima alla Pasqua, ma oggi non è ancora Pasqua, oggi è silenzio, oggi è pazienza. Infatti, le cose più importanti della vita sono figlie della pazienza, sono propiziate dalla fedeltà. E' questa la lezione immensa di oggi, non avere fretta, sapere attendere, camminare anche quando tutto sembra perduto, sperare contro ogni speranza. La loro testa sa bene che tutto è finito, ma in loro c'è qualcosa che le spinge a continuare a offrire la loro tenerezza, anche a corpo morto di Gesù. Bisogna fidarsi più del sesto senso del cuore che della disperazione esatta dei nostri ragionamenti. La via di Pasqua è un imprevisto nei nostri calcoli. La via di Pasqua è un imprevisto nei nostri calcoli.